Dovrebbe essere il miglior tecnico, il miglior punteggio di components al debutto nei grampi segni Tranquillamente oltre il punteggio tecnico Assolutamente richiesto per i mondiali che è 48, veramente incredibile 51 nei components che ha solamente 15 anni lei Un programma che comunque è stato condito di qualche sbavatura di troppo Però veramente l'aveva iniziato in maniera così solida Mamma mia bellissimo E poi si è ripresa perché ha fatto l'axel dopo essere caduta e è stata brava Però vedi sono queste ragazze che entrano, hanno quell'eleganza naturale Hanno quella presenza e questa precisione nel modo con cui eseguono gli elementi Che non dico vai a perdonarli degli errori Però questi errori vanno ad abbassare meno il punteggio C'era una volta in America, Kira Corpi C'era una volta in America, Kira Corpi C'era una volta in America, Kira Corpi E' un errore nel quello che doveva essere un flip Che l'ha eseguito solamente semplice C'era una volta in America, Kira Corpi 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 C'era una volta in America Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Anche qua doppio Triplo loop doppio tollo Qua vediamo il triplo salco Poi ha dovuto fare un giro per attaccare Un doppio tollo e poi solamente un loop Semplice vedi come scomposta Non è riuscito a mantenere Il ritmo del salto Perché ricordiamo che una cosa molto Importante per quello che Riguarda l'esecuzione corretta dei salti E le combinazioni è il ritmo che si dà E la coordinazione Se tu inizi a perdere quello Inizi ad entrare in rotazione Prima di aver preparato le braccia Di avere un ritmo tuo Purtroppo poi a salvare Il salvabile è impossibile Grazie a tutti Grazie a tutti E migliore anche di tutti Il suo free con 100 ed 85 Vediamo un po' Secondo me sicuramente starà indietro la cinese a livello 51.03 a livello tecnico è dietro Ma il livello di components non è uguale Con 59.14 110.17 Il totale per 169.86 Da uno star di 9.80 Dalla cinese Che ne ha 160.06 Doveva essere assolutamente dietro A livello tecnico Perché troppi errori Il components è corretto Perché veramente l'abbiamo detto Grazie a tutti